Ciao a tutti, Poletile e Poletile, ben tornato in questo nuovissimo video. Innanzitutto volevo dirvi che presto comprerò la fotocamera nuova, venderò una reflex e quindi con quello non dovremmo avere più problemi di audio, quindi pazientate ancora un pochino, vi prego, grazie. Bene, questo video è in collaborazione con la Dope Kids, mi hanno mandato un altro paio di scarpe che voglio farvi vedere, sono delle Nike bellissime. Allora, aspettate, qui c'è lo scontrino che mi hanno mandato di Footlooker, vedete? Quindi credo siano originali stavolta. Le scarpe sono queste, Adidas, guardate, se riesco a farvi vedere all'interno, aspettate, all'interno è scritto Adidas, non so se riuscite a leggere, le scarpe sono bellissime, sicuramente comode come le altre, la scarpe è fatta così, anche l'altra, vedete? E le suole sono fatte così, poi hanno questo qui in dotazione che sinceramente non so a cosa serve, ma lo scopriremo. E poi mi hanno mandato anche in dotazione un paio di calze dell'Adidas, bellissime, guardate. Io questi tipi di calze così li uso tantissimo, quindi grazie mille, ringrazio la Dope Kids, vi rifascio vedere le scarpe, guardate, a me piacciono un casino, vi lascio il link nell'info box se siete interessati, della Dope Kids e di queste scarpe bellissime. Che dire, folettini e folettine, questo video termina qui, ringrazio la Dope Kids per questa collaborazione bellissima, spero ce ne saranno altre, ringrazio tutti voi perché stiamo raggiungendo un successo inaspettato, grazie mille di cuore a tutti, ai commentatori, a tutti quanti veramente, grazie di cuore. Se vi è piaciuto questo video mettete tantissimi like, spolliciate, 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 iscrivetevi alla mia pagina Facebook Folettina Creation, attivate la campanellina dei video per rimanere sempre aggiornati sulle notifiche dei video. Per chi volesse mandarmi una letterina, un pacchetto può farlo col fermo a posta scrivendo fermo a posta prima dell'indirizzo, all'indirizzo che trovate giù nell'info box. Per chi volesse anche mandarmi un'email, l'email è grazie.catalano.it, vi ricordo che ci sono le mie magliette in vendita, ci sono anche le nuove magliette, link nell'info box, andate a darci un'occhiata perché sono stupende, io vi mando un grosso bacione, a proposito volevo anche ricordarvi che la prossima settimana non usciranno video perché sabato vado a ferrare da mia sorella e rimango fino all'altro sabato mattina che poi loro mi riportano a casa con la macchina e quindi vedrete un weekly vlog, come si dice, di tutta la settimana, un pezzetto al giorno diciamo di tutta la settimana, di quello che faremo e forse ci sarà anche una sorpresa che non vi svelo. Un bacione, alla prossima ciao a tutti!